volesse sapere una cosa stupida special se hai il dubbio che ci tiene adesso finalmente lo perdonarai cosa ho trovato questo? ci sono i carabinieri per queste cose ho un'idea di chi può essere stato quello che facciamo era molto pericoloso gliel'ha insegnato lei no? io ti ammazzo se viene a saperla noi perdiamo tutto però è molto bello io sono una donna meravigliosa ma fra otto mesi non ci sarò più la donna è su noi era molto bella quando è morto pensava 35 kg così mi hanno detto ma lascia perdere questa storia perché? non possiamo farlo noi è troppo pericoloso guarda che anch'io so delle cose e perché ha smesso di fare il passore? stava diventando un altro mestiere pochi sanno che Alessandro Borghi è esordito come stuntman poi la sua popolarità esplosa nel 2015 con Suburra è molto molto sportivo è appassionato di equitazione, pugilato e scherma vi piace? in quale ruolo vi ha convinto di più? fatemi sapere nei commenti qui sotto e se anche voi siete contro gli spoiler questa è la vostra maglietta in infobox trovate come comprarla ciao da Valeria